Nacque nel 1386 e morì nel 1466, quindi visse 80 anni. Al crepuscolo del gotico ed all'alba del rinascimento. Fu orafo e scalpellatore, celebrato da Firenze a Padova. Ambito scultore, finì la sua vita in povertà, in via del cocomero, oggi ricasoli a Firenze. Tuttavia riposa nella Basilica di San Lorenzo con il suo protettore ed amico Cosimo il Vecchio dei Medici. In Orsa Michele, di cui abbiamo narrato, San Giorgio fu tra le sue prime opere. Si staglia libero dai modelli religiosi, è un giovane soldato e, come per il David che vedremo, rappresenta l'energia virtuosa e la nobiltà morale della città. Nel basamento lo vediamo all'opera, ma quel che ci preme segnalare è la tecnica che adotta. Un basso rilievo appena accennato, in particolare negli archi a destra, annuncio dello stiacciato. Non dissimile nel volto e nel simbolo civico è il David destinato a Palazzo Vecchio. Ha sconfitto Golia, il cui capo giace ai suoi piedi, avvolto tra le piaghe del mantello morbido nel panneggio sulle gambe divaricate. Nel Profeta, al Museo dell'Opera del Duomo, Donatello si concentra sulla testa, prendendo ispirazione dei busti romani. Collo innervato da tendini, volto teso nella riflessione, un naturalismo che supera le graziosi figure precedenti e che a Padova rinnoverà nel monumento equestre del Gattamelata, per il quale si ispirerà al Marco Aurelio Romano. Per la Basilica di Sant'Antonio, oltre alle celebri sculture, realizzò mirabili pannelli con la tecnica dello schiacciato o stiacciato, ossia attraverso una incisione leggera che consente prospettive inaspettate su porti così limitati. Soffermiamoci sul festino di Erode. Vediamo almeno tre livelli e a destra, oltre la scalinata, un quarto. La profondità architettonica non va a scapito della precisione delle figure. Erode sdegnato, erodiade disgustata, sul tavolo imbandito, le vettovaglie sono state spostate a destra perché il sangue del Battista non le inzaccheri e sotto il tavolo spuntano le punte dei piedi, su un pavimento a riquadri perfettamente allineati. Alle loro spalle un musico e dei soldati seduti e, nella stanza superiore, Salomè porge il vassoio macabro alle sconcertate serbe. Un film con tre scene e sedici attori in pochi centimetri quadrati. Un capolavoro. Scolpi crocefissi, Maddalene penitenti, Madonne dolci con bambino, Abba Cucchi il profeta, noto come lo Zuccone. Ma a noi piace concludere con questa statua in bronzo, nota come David. Figura adolescenziale, nuda, con cappello e calzari. Tiene il sasso nella sua mano sinistra, ancora non l'ha scagliato e nella destra la spada. E la grande testa sotto di lui con elmo. Non può essere Golia. Soggetto ambiguo, di bellezza effebica, che si lascia ammirare a tutto tondo. Per alcuni è Mercurio. Per altri una bronzea confessione di una indicibile, in quel tempo, propensione amorosa.